Vivi da cristiano coerente col Vangelo. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia la parola di Dio oggi nel Vangelo secondo Matteo capitolo 23 dal versetto 27 al 32. In quel tempo Gesù parlò dicendo «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e addornate i sepolcri dei giusti e dite «Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene voi colmate la misura dei vostri padri». Carissimi, oggi concludiamo questo episodio in cui Gesù, verso gli scribi e i farisei, dice, asserisce questi sette guai. È un linguaggio, abbiamo visto già l'altro giorno, già nell'Antico Testamento ripreso, dove Dio stesso rimproverava per l'infedeltà del popolo di Israele o per alcune azioni che non andavano bene. In questi ultimi due guai si riprende la tematica della ipocrisia, questa maschera che noi stessi abbiamo la capacità di indossare ogni giorno, a volte anche senza accorderci, se viviamo spesso in questo modo, e Gesù dice, attenzione, perché nella vita di fede questo non va bene. si rivolge agli scribi e ai farisei ipocriti addirittura con un paragone, con una similitudine, assomigliate a quei sepolcri imbiancati, belli fuori, un bel colore, un bell'ornamento, ma dentro invece siete pieni di ossa di morti e di marciume. L'ipocrisia noi la potremmo definire anche come una incoerenza di vita, perché se una persona è cattiva interiormente ed esternamente compie gesti negativi di fronte agli altri non è ipocrita. Se invece compie dei bei gesti e vuole far vedere agli altri che è bravo, che è migliore degli altri, che non ha certe caratteristiche negative che invece sa di avere, ecco l'ipocrisia. È una trappola, trappolina, trappolona, dipende a che livello, in cui tutti noi umani ci caschiamo, tutti, anche battezzati in Cristo, ci cadiamo, perché non vogliamo mai apparire di fronte agli altri come siamo realmente. Non vogliamo dimostrare agli altri che in realtà non siamo buoni, non siamo fedeli. Noi ci nascondiamo sempre con le buone opere e con una bella facciata, come Gesù stesso diceva degli scribe e dei farisei. La questione, quindi, è di entrare come cristiani in una coerenza di vita tra ciò in cui noi crediamo, proclamiamo, quindi la nostra fede in Gesù Cristo, la fiducia, l'affidamento a Lui di tutto ciò che noi viviamo e abbiamo affinché le nostre opere, i nostri gesti, le nostre parole possano coincidere, essere coerenti, ma spesso ci lasciamo dominare dalla carne, lo dice San Paolo nella Lettera ai Romani al capitolo 8. Se voi non seguite lo Spirito Santo e vi lasciate invece guidare e sedurre dalla carne, dai piaceri, dalle comodità e da tanto altro, voi farete in qualche modo morire lo Spirito Santo in voi, lo rattristerete, lo spegnerete, anche se esternamente fate vedere che state bene, che siete felici, contenti e la vita è bellissima. Come essere coerenti? seguendo lo Spirito Santo, Romani 8. Se voi seguirete i desideri dello Spirito e camminerete nello Spirito Santo, le opere della carne moriranno. Amen? Prendete oggi anche nella vostra Bibbia personale la Lettera ai Galati al capitolo 5, dove San Paolo descrive le opere della carne, quando noi cristiani che preghiamo, che adoriamo Dio, a volte invece ci lasciamo trascinare dai piaceri della carne e dalle cose che sono superficiali. Le opere, dice in Galati 5, sono invidia, fazioni, gelosia, adulterio, infedeltà, io direi oggi incoerenza di vita perché ci mettiamo una maschera e dimostriamo agli altri che siamo belli, bravi, buoni e santi. Ma, sempre in Galati 5, San Paolo dice se seguite lo Spirito Santo avrete questi frutti ottimi, buoni, amore, pace, gioia, fedeltà, mitezza e io oggi voglio proprio dire coerenza di vita perché se noi seguiamo lo Spirito Santo possiamo davvero essere coerenti con ciò in cui noi crediamo in Gesù Cristo perché è proprio lo Spirito Santo, anzi è solo lo Spirito Santo che ci fa essere coerenti nel nostro cuore e nella nostra vita pratica con gli altri dinanzi agli altri. Poco se ne parla di questo, anzi si dice guarda quella persona è un cattivo ha un cuore negativo quante volte noi diciamo questo perché giudichiamo fratelle e sorelle noi siamo molto negativi nei confronti degli altri ma Dio che è il creatore è capace di trasformare ogni cuore quindi anche il mio cuore prendiamo fiducia oggi cari amici fiducia che Dio entra nella mia vita e lo Spirito Santo mi fa essere fedele alla sua parola alla mia vocazione alla mia casa nel mio lavoro con gli altri all'amicizia allora diciamoli insieme vieni Spirito Santo vieni e porta la tua luce in questo giorno porta la tua luce dentro di me perché io non sia ipocrita perché io sia coerente con le parole di Gesù di Gesù Spirito Santo entra dentro di me Spirito Santo guariscimi liberami da ogni peso nella mia vita che mi impedisce di andare avanti Spirito Santo allontana ogni ostacolo io ti invoco Spirito Santo entra nel mio cuore Spirito Santo perché io possa essere fedele alla chiamata di Dio e a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli Amen Carissimi amici riceviamo oggi questo slogan questa esortazione vivi da cristiano coerente col Vangelo come è possibile soltanto invocando e seguendo lo Spirito Santo nella nostra vita Amen e carissimi amici soprattutto mi rivolgo a voi giovani dal 22 al 24 settembre qui a Strona avremo un incontro un weekend Shout Generation dove faremo il Corso Filippo un'esperienza bellissima con la parola di Dio con insegnamenti con dinamiche insieme come amici per incontrare Gesù Cristo che ci libera che ci trasforma e che rinnova la nostra vita vi aspettiamo iscrivetevi sul nostro sito web grazie per avermi accolto ci vediamo domani ciao a sete di te signore l'anima mia a sete di te signore l'anima mia oh Dio tu sei il mio Dio dall'aurora io ti cerco a sete di te l'anima mia a sete di te